5. Marco Anneo Lucano Marco Anneo Lucano, 39-65 d.C. Poeta, nipote di Seneca, in Farsalia dice A chi era pronto, sempre nocque il differire. Commento Se noi scriviamo la nostra vita, come ripetono i maestri, da noi stessi in noi stessi, il differire non può nuocerci, perché è la decisione migliore che noi potevamo prendere in quel nostro momento evolutivo. Infatti, se abbiamo differito nel prendere la decisione, è perché per la legge d'evoluzione non eravamo ancora pronti, contrariamente a quanto afferma Marco Anneo Lucano.